Le 5 cose che fanno i migliori team software. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere quali sono 5 best practice che puoi portare nel tuo team di sviluppo ispirandoti ai migliori. Sigla! Quando conosco dei nuovi team software una delle prime domande che mi fanno è Michele, come posso fare per lavorare meglio? Dietro questo meglio ci sono tante criticità, tanti bisogni da soddisfare a come organizzare semplicemente meglio il lavoro, da come capire cosa fare, cos'è importante fare, come specificarlo, a come magari svolgerlo, a come gestire i repository o magari a come organizzare i rilasci in termini architetturali, di automazione ma anche in termini di cadenza e frequenza. Allora andiamo a prendere 5 cose che secondo me fanno i migliori team software e vediamo come rispondere a qualcuna di queste domande. Allora scriviamo subito alla lavagna, tanto a me cara, la prima cosa. Il lavoro è ben visibile da tutti a colpo d'occhio. Cosa intendo con questo? Questo significa che il team si dota di uno strumento tipicamente virtuale che fa di solito il verso a una Kanban board, quindi una rappresentazione che può essere di questo tipo. Quindi abbiamo una lavagna con delle colonne che rappresentano gli stati di avanzamento del nostro lavoro. e abbiamo del tipo analisi, abbiamo sviluppo, abbiamo test in genere e poi abbiamo done, abbiamo fatto. E qui all'interno di queste colonne abbiamo dei cartellini virtuali che si spostano con scritto il titolo bug XYZ. Con un approccio disciplinato e strutturato all'utilizzo di uno strumento di questo tipo, andando a conoscere quelle che sono le regole e le metodologie di una Kanban fatta come si deve, perché ne vedo di Kanban ma con poca consapevolezza di quello che ci sta dietro a come si utilizzano e quali sono le regole di base. Conoscendo queste regole di base il lavoro è ben visibile a tutti, sappiamo cosa c'è in corso, quello che deve essere fatto è lo stato delle cose nel breve termine. Quindi assolutamente rendere visibile e tangibile quello che è un lavoro intangibile nel mondo software, che appunto non lo tocchiamo con le mani, averlo visibile davanti a tutti, aiuta sicuramente chiunque coinvolto nel processo di sviluppo software, non solo i developer stessi ma anche chi è interessato al software che viene prodotto. Immaginiamo per esempio una realtà che sviluppa un software ad uso interno per un'azienda che ha impatti in logistica o produzione, chiunque può essere interessato al sapere come sono messe le nuove funzionalità che devono essere a supporto della qualità o della logistica, può consultare o tramite l'aiuto del team e sapere come stanno andando le cose, dove sono le difficoltà. Ora che abbiamo capito l'importanza di vedere bene il lavoro, la seconda cosa che deve fare un team è tenere sotto controllo il debito tecnico. Per debito tecnico ci sono tanti modi, cioè una parola che identifica tante cose, ma sostanzialmente quando lavoriamo in una codebase, anche con un po' di frenesia, per sempre stare dietro alle nuove feature, nuovi sviluppi o alle richieste clienti che sono così pressanti e le scadenze da rispettare e così via, è facile andare ad accumulare quello che è il debito tecnico. Con debito tecnico intendiamo quelle scelte architetturali a qualunque livello, potrebbero essere di classi in una codebase, oppure anche più architetturali dal punto di vista di un'architettura cloud, non importa, il debito tecnico può essere in tutti i livelli, in tutte le dimensioni, va tenuto sotto controllo. Accade e si verifica quando noi prendiamo una scorciatoia, ok, e facciamo una cosa giusta, come come, solo per portare a casa la funzionalità, ma tralasciando la qualità tecnica, magari prendiamo una scorciatoia, la facciamo in un modo non proprio resiliente o come dovrebbe essere fatto, o per esempio non investiamo come al solito, o come le pratiche di team, in una copertura con test automatizzati. Questo, oppure un'altra cosa, può essere la codebase, sta crescendo a una velocità elevata, e quindi andiamo ad incontrare i problemi di scala, dove quelle scelte di organizzazione delle classi o del codice che avevamo fatto, cominciano a scricchiolare, perché magari andavano bene finché il codice era contenuto, la codebase era piccola, ma mano a mano che cresce, diventa una bestia tentacolare, abbiamo bisogno di rivedere e costantemente tenere sotto controllo il debito tecnico. Perché? Perché se no il team si incastra, e si incastrerà, rallenterà costantemente le sue attività di sviluppo, perché dovrà costantemente combattere contro dei limiti tecnici, dovuti proprio a delle scelte fatte in passato per accelerare il tempo, ma che dal punto di vista architetturale hanno rappresentato una scelta non ottimale, che potrebbe essere, sfocia anzi sicuramente in difficoltà in implementare cose nuove, o difficoltà in testare la nostra piattaforma o assicurarci di non introdurre regressioni. Quindi tocco da una parte, ma si spacca da un'altra. Quindi tenere sotto controllo il debito tecnico è una cosa estremamente importante. Un team tipicamente dovrebbe dedicare da un 10 a un 20% del proprio tempo a attività non funzionali, quindi tutte quelle che sono le ilities del software, per andare a mantenere in buono stato la codebase e non rallentare la velocità di sviluppo. La terza cosa che un team dovrebbe fare è investire nella scrittura di test automatizzati, o meglio, per essere ancora più specifici, come mi piace dire, in un portafoglio di testing. Perché nel mondo del software i test automatizzati sono di varie tipologie e agiscono a vari livelli. Abbiamo i test unitari, abbiamo i test integrazione, abbiamo i test end-to-end, queste tre grandi categorie raggruppano un po' tutto, possiamo anche parlare di test di carico e così via. Ma un buon team che vuole definirsi veramente agile e sviluppare velocemente e togliere la paura dello sviluppo e dei rilasci investe nella scrittura di test automatizzati quotidianamente. Parlo di investimento perché se la scrittura dei test, che è a seconda delle metodologie un artefatto, cioè il test è un effetto collaterale di un certo approccio alla scrittura del software, come per esempio può essere Behavior Driven Development, il cui la scrittura del... è importante la scrittura di un requisito che diventa quindi un test. Ma questo è un altro discorso. Quindi investire nella scrittura del test è proprio un investimento, perché richiede un certo sforzo, un certo impegno che ripagherà nel medio termine. Certo, avremo subito anche delle vittorie a breve termine, delle early victories, delle early win, ma l'investimento nel testing arriva nel corso dei mesi, quando la mia codebase comincerà ad avere tanti test, a essere coperta da tanti test, e avrò questa rete di salvataggio che mi impedisce di calare la qualità della mia applicazione, in maniera tale che se tocco da una parte ho un test che verifica immediatamente se si è rotto qualcosa da qualcos'altra parte. Inoltre un approccio disciplinato al testing produce una codebase con un aspetto completamente diverso rispetto a quando non lo facciamo, cioè il nostro software viene naturalmente più scomposto in componenti, con responsabilità più piccole e confinate. li conosciamo meglio, li possiamo testare in autonomia senza far partire l'intero nostro software, ma dei singoli componenti che possiamo verificare costantemente e facilmente con un click, se il loro comportamento è quello desiderato. i test sono un vero abilitatore dell'agilità di un team perché solo grazie all'automazione e ai test automatizzati il team perde la paura del rilascio perché in questa maniera ho una rete di sicurezza automatizzata che mi verifica la qualità del mio software e posso cominciare ad approcciarmi a quello che è il prossimo punto, il punto 4, che è quello di effettuare rilasci piccoli e frequenti. Quindi i team più maturi, i migliori team, non fanno rilasci lontani l'uno dall'altro dove cercano di accumulare il più possibile perché hanno paura del rilascio. La paura del rilascio dice rilascio poco perché ogni volta che io rilascio succede qualcosa. Succede qualcosa perché non ho un corretto investimento nella mia piramide, nel mio portafoglio di test automatizzati. Io devo tendere a riuscire a fare rilasci piccoli e frequenti, quindi avere dell'automazione a supporto che mi permetta di rilasciare cost al on demand il più frequentemente possibile con un livello di qualità certificato dall'automazione. Se io faccio rilasci piccoli e frequenti, non solo ottimizzo i miei processi di deployment perché se lo faccio frequentemente sono costretto ad ottimizzare e quindi investire in automazione, ma anche faccio un'ottima figura con i miei clienti perché se i rilasci sono piccoli è ridotto il rischio che succeda qualcosa, inoltre so di test automatizzati, lo riduco ulteriormente e più faccio vedere ai miei utilizzatori, ai miei clienti, che i rilasci sono senza conseguenze o pochissime conseguenze, più avranno fiducia e migliorerà la reputazione del team. Infine, che cosa fanno? Come best practice, i migliori team si formano continuamente. I migliori team non smettono mai di imparare e escono costantemente, in maniera strutturata e frequente, dalla loro comfort zone. Quindi apprendono tecniche nuove, approcci nuovi, tecnologie nuove, provano a cambiare modo di fare le cose con il coraggio di cambiare e capire che cosa funziona per loro o che cosa non funziona. A proposito, piccolo spot, se il tuo team ha bisogno di formazione su best practice, di gestione con metodologie e principi DevOps, scrivimi, Limeware, facciamo servizi di formazione per team di sviluppo per portarli al livello successivo. Quindi se anche tu e il tuo team vuoi essere al come fanno i migliori, ci puoi contattare. Bene, per quanto riguarda 5 cose che fanno i migliori team, ci fermiamo qui, mi raccomando. Spulcia il mio canale, è pieno di principi e pratiche DevOps, anche con tutorial pratici, con tecnologie come Azure DevOps, Pipeline, eccetera. Mi raccomando, se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto, metti un mi piace e iscriviti al canale per rimanere aggiornato su nuove uscite. Ciao! Ciao!